il bosco che circonda la fortezza di jarad von savo non è noto per la sua accoglienza e mentre i nostri sventurati protagonisti iniziano ad attraversarlo un'atmosfera cupa e opprimente li stringe a sé come un rampicante la morte e la decadenza regnano incontrastate e la potrefazione consuma ogni insenatura e ogni angolo tra giganti non morti e un simic piegato dai rituali dei golgari il gruppo riesce a farsi strada sempre più all'interno del labirinto sotto lo sguardo sinistro di creature minacciose quando sembra che il peggio sia passato un fulgine attira la loro attenzione poco lontano jace il compagno di vrasca giunge senza preavviso dopo un salto tra i piani quando incontra gli eroi desidera scrutare le loro menti e l'artefatto che servano convinto che quest'ultimo possa svelargli il suo destino seppur con reticenza il gruppo glielo concede comprendendo che un rifiuto avrebbe probabilmente portato a una rapida dipartita ad opera dell'immenso potere di jace un potere che non spaventa nimue dal setacciarne i pensieri quando troppo distratto dalle visini dell'artefatto segreti dubbi dolori la simic vede tutto questo nella buia immensità della sua mente il planeswalker ottenuta una nuova chiarezza sull'artefatto e sul futuro di ogni cosa offre il suo aiuto sa che per salvare vrasca la donna che ama deve aiutare gli eroi e fare in modo che entrino no mi si è bloccato tutto nell'ultimo l'ultimo secondo la gorgone ah ok non ho sentito l'ultima parola è stato un frizzone totale prego putrefazione l'odore che può collegarvi a il labirinto intorno alla fortezza è quello della putrefazione un odore pesante e dolciastro di morte per quanto la il rifugio che jace ha preparato i ripari dagli agenti esterni e in qualche modo vi abbia protetto durante le 8 ore di riposo nino fermo mi scompari non capisco come mai mi sentite raga sì vi scomparo da cosa è il microfono di alzare aspetta perché prima eri già giusto e poi inizia la giocata improvvisamente voi parlate all'indentro invece in fuori non capisco io parlo normalmente per avere un tono più abolgente lo so lo so non mi fa ridere questa cosa i volumi sono tutti giusti sì sì il giallo sparato quasi rosso e poi ma ovviamente mi ha fatto vai l'odore di putrefazione vi circonda completamente il rifugio vi ha sì protetto ma non vi ha permesso di passare una notte senza pensare agli orrori che circondano che vi circondano la vostra missione è quella di penetrare ancora di più nel territorio golgari per incontrare la gorgone e rubarle qualcosa vi svegliate e il mago è semplicemente seduto all'entrata con le gambe incrociate assorto in una meditazione profondissima jace ha completamente cambiato espressione anche nel modo in cui è raccolto in questa sorta di pausa meditativa vi fa capire che è tesissimo se prima c'era della sfacciataggine lui adesso il suo viso è si è trasformato in una maschera di pura terrore e rabbia o forse dolore a voi la luce lì sotto non esiste e non c'è un solo a svegliarvi semplicemente Flynn che fa oh no ci siamo riposati prego lì da mio padre totale oggi fu bello doveva giocare allora ho io una domanda dica che temperatura c'è lì dentro ci saranno una ventina di gradi stabile sì 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 ok io non me la sento cioè io sono lì che praticamente cercando di capire jace che cazzo vuole fare perché a livello di formulare il piano di 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 entrata io si non so andrea sfondamento totale quindi siccome so che nessuno sarebbe d'accordo con me io mi guardo intorno guardo un po' loro e dico qualcuno vuole proporre un piano di azione ma lena si sta rimettendo l'armatura perché lei ovviamente non è indorme con l'armatura quindi sta rimettendo tutta quanta l'armatura di di piastre sul corpo tonico e allenato credo che avere maggiori informazioni su gli ingressi come costruito il nascondiglio di Vrasca possa essere un'idea ottima per iniziare a stendere un piano immagino mi giro verso Flynn è sveglio è tutto in piedi è pronto sì è sveglio e guarda mio caro rinnovato compagno o schiavo animale come vogliamo chiamarti insomma ti ho detto che conosci molto bene questa zona vero? io ho detto che conosco bene il labirinto non la fortezza in cui Vrasca sta la fortezza di Svotgos è un luogo da cui nessuno fa mai ritorno a meno che non sia stato invitato e non sia appunto nelle spire benevole di Vrasca e pensare il fatto che stiamo per andare lì diretti con lui vedete che ve lo indica e la nostra film ma su una condanna a morte ma hai detto no sei molto interessante hai detto invitato non credo Vrasca non credo Vrasca sarà così gentile da invitarci ma Jace sicuramente ha maggiori informazioni su dove potremmo entrare oppure potremmo invitare Jace appunto potremmo far sì che Jace sia invitato a entrare con lui magari un po' sneaky sneaky eh quello quello intendo vedi che Jace vi dice per entrare non ci saranno problemi il problema è uscire nah ve l'ho già detto secondo me una volta entrato e risolto tutto uscire sarà una bellissima linea retta da quello che... ah no vai 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 scusa scusa vai vai Mario è Elun che fino a quel momento col capo Kino e taciturno stava ricalibrando Titano aggiustando stringendo vitine alza lo sguardo si era parlato dell'eventualità di uscire da lì magicamente non doveva essere quella la parte più semplice se siamo tutti d'accordo sul planare a caso a caso no non è vero che quasi qualsiasi posto però penso che ci siano molti posti migliori di della camera di Vraska con lei incazzata con noi domanda mi rifoglio che ho a Jace quando un planeswalker fa i saltini chi è con lui che non è un planeswalker? diventa un bellissimo frullato di ciccia o non succede niente? dovrei avere abbastanza controllo per evitarvi di ridorvi in poltiglia questa cosa non mi rassicura sul 100% eh a sentirla così mi sembra tipo un 67 una volta ci ho provato hai portato con te un tuo amico in un salto e adesso il tuo amico riceve gli ospiti in un barattolo eh questo mi stai dicendo beh non è per forza che dobbiamo fare un salto dimensionale per quanto ci riguarda ah puoi anche fare il tuo fulminino tipo semplicemente sul piano magari nella torre magari a soldi mora magari un incantesimo sì possiamo aspettarci qualche effetto collaterale dubito che la maggior parte di noi si è abituata a questo genere di spostamento mi piacerebbe molto vederti vomitarti nella maschera Alistair ti dice che spuso dagli occhi è on eh? lo dice Gregori sì non avevamo dubbi però no non dovrebbero esserci effetti collaterali ma l'ultima volta che ho litigato con Vrasca ho rischiato di diventare una stato di pietra quindi il piano A è quello che vi vengo a prendere il piano B è quello che scappate voi il piano C è quello che meniamo Vrasca no 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 non c'è no troppo forte tutto ok niente 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 alzo le mani mi giro Vrasca è più pericolosa di me parliamo di questo piano B apprezzo la tua eroenza Gregorio ma credo che per stavolta faresti bene a ecco come dire controllare i tuoi istinti più feroci sì ma mi ha visto ovvio che io andrei lì a prendere l'intero castello a pisellate ma ovviamente voi non sareste d'accordo con me è ovvio che cosa? è ovvio che ah ok dicevo è ovvio che io prenderei l'intero castello a pisellate ma voi non sareste mai d'accordo con il mio modus operandi come gli piace parlare a Alistair di queste cose e quindi semplicemente voi sapete come la penso ma io sono pronto a fare da braccio al vostro bellissimo piano a me piace molto che Jace dica Vrasca è più forte di me si vede che è proprio innamorato che è carino una fuga dalla finestra è plausibile vedete Frinn vedete Frinn estrarre una pistola d'avancarica puntarsela in bocca a fare fuoco ma la pistola si inceppa non lo cago che faccio la mia domanda Jace io vado da lui gli strappo la pistola questo non è un giocattolo e me lo metto nella cintura la fondina è una fondina vuota però punta per un'eventuale pistola di altri io proprio la prendo non è un giocattolo tonk gli do una botta sulla fronte con il calcio della pistola e la metto da parte guarda questo qua si chiama fottere del loot non è bello povero Fli vedi che Fli nesce un altro uguale e se la tiene molto stretta al petto e fa beh le camere di Vraska sono in alto nella fortezza di Svotgos calarsi giù non potrebbe essere così sbagliato calarsi giù potrebbe non essere così sbagliato certo sarebbe letteralmente un cadere dalla padella alla braccia e finire di nuovo in questo postaccio no perché altro quello che penso io è che se Vraska si incazza anche se noi scappiamo ma poi tipo non è che l'intero labirinto diventa un culo enorme pieno di rovi e ci uccide ho come questa sensazione che scappare nel tornando qua e cercando di rifarci tutto il labirinto e tutto l'under city che è letteralmente un'estensione del volere di Vraska ma forse ora è ovvio che a me mi piace distruggere ogni cosa ma nel senso se occupata io stavo pensando di uscire dall'altra parte e poi magari cercare una via di fuga verso un'altra uscita verso l'Upper City scusate ma qui ho io una domanda scusate però cioè dietro il castello di Svotgos cosa c'è tipo il nulla nel senso c'è tipo che ne so una steppa di radata di vuoto completo perché se no dovrebbe essere la fine del labirinto esatto che da su un'altra parte dell'under city però il labirinto è tutto intorno al castello teoricamente il labirinto teoricamente il labirinto è il castello è al centro perchè sennò che sono davanti fai il giro scusami esatto se no ci sarebbero una miriade di stronzi che dicono vabbè noi prendiamo l'altra parte no ma magari c'era una roba ultra guardata il labirinto era tipo la sua versione che l'avevo preso come l'ash aveva il labirinto come la sua versione traviata di giardino cioè non che aveva un effettivo utilizzo al labirinto c'è il sentiero esatto ragazzi c'è il sentiero no 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 comunque la fortezza è al centro del labirinto e jace dice se lei è occupata e credo di poterla tenere occupata potreste avere una speranza il labirinto è sì una sua estensione ma ma sono abbastanza bravo con la sua mente tanto quanto lei è brava con la mia dentro di me gianandrea penso minchia che relazione tossica di merda e jace cioè parliamo di jace e vrasca potevano mai essere due persone a posto e l'unico momento in cui è sembrato vagamente d'oson creek è stato x alana per il resto solo merda perché erano tutte e due spasate di cervello quindi e vabbè ma occupata per quanto ce lo stiamo chiedendo tutti quanto dura jace un minuto nella media e allora no per chi ha le per chi ha le scaglie e quindi 30 secondi più sigaretta beh abbiamo un piano quindi andiamo io sono prontissimo sono lì che tipo faccio come cloud con l'ascia però lo faccio con la basta ad solito faccio con l'ascia sì abbiamo un piano mi sembra che abbiamo delle intenzioni non un piano abbiamo delle intenzioni che sono un piano se ci pensi prendi l'intenzione farle azione diventano un piano e lo stai già mettendo in atto senza nemmeno dirlo è bellissimo l'alena si incrocia il mio sguardo io sto scuotendo la testa sconsolato vedi che aspetta c'è fede che voleva dire qualcosa da mezz'ora non vorrei ecco come dire fare l'uccellaccio del malaugurio ma nello sfortunatissimo caso ed in particolare parlo per me in cui io dovessi ecco passare letteralmente a miglior vita come avete intenzione di non passerai a miglior vita non passerai a miglior vita ma no tu sei destinato a diventare un placewalker sei l'unico che può maneggiare quell' artefatto e la mia missione parla chiaro piuttosto morire io e tu potresti tornare dal tuo concilio orzov con tutti gli onori e magari se muore qualcuno di noi a lui prende un momento di di rabbia tristezza e emozioni miste che gli fa uscire la scintilla diventa fortissimo e salva tutti gli altri vero Flynn sei pronto? io adesso invece lancio uno sguardo a Nimue io infatti vado a Nimue è rimasta molto silenziosa mi covaccio di fronte a lei e sfodero appunto dalla scarsella della qualcosa dico sei molto silenzioso a Nimue tutto bene? sì hai ragione Malena questa questa situazione la discussione di ieri mi hanno dato materiale su cui pensare la mia vita prima di questa avventura era molto piatta se vogliamo non sono abituata sono un po' scossa però sto bene sto bene grazie per esserti interessata sfodera dalla scarsella della carne secca dicendo non so se di tuo gusto ma la colazione è il pasto più importante della giornata io accetto la carne secca la quindi si mangia? sì e l'annuso non l'ho mai provata prima può risultare dura il primo morso però è buona e se ne mettono in bocca sembra tipo un sigaro e si rialza e si riavvicina a tutti quanti gli altri invitandoti non con un gesto ma semplicemente con il movimento del corpo a riunirti a tutti quanti pronti a partire ok io imito il gesto di Malena nel mettere la carne secca in bocca perché a quanto pare si fa così non ne ho idea e quindi mi alzo con questo con questo sigarello di carne secca inizio un po' a ciucciarla perché effettivamente è molto dura e niente sono abbastanza concentrata sulla carne e quindi abbiamo deciso come entrare? no abbiamo vagamente deciso come uscire ora dobbiamo vedere come entrare ha detto Jace non sarà un problema Jace visto che non sarà un problema cosa suggerisci? conosco un modo per aggirare il labirinto una volta dentro io vado a parlare con Praska a voi vi regate nelle sue stanze l'artefatto l'abbiamo visto lì in particolare nel suo letto credo di essere atteso abbiamo una mappa? sì vedi che ti passa un foglio con sopra una planimetria disegnata quindi non ti aspettare la perfezione ma una planimetria non me l'aspetto una planimetria del del laboratorio di Vraska ai piani superiori della fortezza ma perché del laboratorio bene ma anche il percorso per arrivarci c'è tranquillamente vedo qualche cosa di problematico nel piano cioè proprio nella mappa se vuoi ti tiro un investigare fammi un tiro di investigare allora fammi aprire qua la mia schedina no no lo so più ehm investigation normal investi comunque vedi che ci sono un paio di trappole ben piazzate sulle scale e le zone proprio le stanze di Vraska vedi che non sono dettagliate tanto quanto tutto il resto jace jace non non si è non si è soffermato su quelle parti ovviamente ci sono delle zoo tipo ci sono le le stanze della servitù che vanno assolutamente evitate a meno che non vi volete ritrovare con una orda di zombie affamati che vi segue ad occhi e croce almeno delle informazioni sulla mappa il nostro percorso non so passa vicino a dei punti particolarmente no dovete prendere una strada una scala una volta entrati semplicemente vabbè ok mi segno sul mio tranquino due note e poi passo il il foglio a qualcun altro in maniera che sia ne abbiamo due ok quando vedi che quando stai passando il foglio vedi nimue che alza le mani fa non a me io ho un pessimo senso dell'orientamento e lascio che lo passi a qualcun altro forse proprio per questo ti serve una mappa no credo che farei persino fatica a leggerla ok Malena tienila tu Elon credo che all'interno di questo luogo in ospitale guardo Flynn la tua expertise sia quella più necessaria in fondo mi sembri un compagno sufficientemente discreto o sbaglio e lo dico con una punta sia di tipo riconoscerti un merito sia di so benissimo che cosa fai nella tua nella tua vita un compli insulto esatto faccio un cenno da sé insomma bene siete pronti? pronto da quando sono svegliato io sono nato e poi sono diventato pronto pronto fammi un macchiato pronto l'atmosfera cambia improvvisamente la temperatura cala almeno di 10 gradi improvvisamente in più o in meno? in meno eh Jace dice oh mi sa che sono per te Orzhov e da fuori puoi iniziare a vedere danzare ectoplasmi che girano e vorticano dovunque a centinaia cosa fai Alistair? stanno iniziando a ruoteare tutti intorno a voi mi volto prima verso Jace beh ti facevo un po' meno impressionabile a dire il vero un un fantasma vi passa esattamente in mezzo e si infila dentro la capanna attraversando un muro un giro verso Alistair non è famiglia tua ah magari è un'altra delle anime in pena che deve qualcosa a noi è abbastanza ordinario centinaia di centinaia di fantasmi appena mettete la testa fuori si aggirano intorno a voi vorticando è un ottimo modo di non attirare l'attenzione di Vrasca questo è un ottimo modo per non attirare l'attenzione di Vrasca direi Alistair questa cosa è normale che cosa e tendenzialmente le anime con le quali ho a che fare io si mostrano nel momento in cui hanno delle questioni ancora in sospeso magari queste persone hanno qualcosa che devono a a chi risiede in questo posto padrone un'anima si materializza davanti ad Alistair dici cosa fare levali dai coglioni io lo squadro riesco a riconoscerne in qualche modo le fattezze riesco a ricollegarlo a è un semplice fantasma come ne hai visti a migliaia un paesano qualsiasi però sono tanti faccio un breve scenno agli altri e gli dico poi quello davanti a me loro sono tuoi amici sono qua con te per servirti oddio mica male mica male Alice te li faccio scusa ma è normale nel senso te c'hai un esercito di fantasmi tuo personale non ci dici un cazzo beh chi può dirlo io personalmente no ma magari riescono a riconoscere il potere che scorre attraverso di me e quindi non sei abituato non è normale che esci a fare la spesa e loro in 40 ti tengono al carreo cioè nel senso non è una cosa abituale questa cosa qui beh tu hai visto ancora poco come io mi muovo ma se hai notato non sono mai io a compiere azioni è sempre qualcun altro che lo fa per me io non sono mai quello che si sporca le mani tuttavia beh questo è così è abbastanza insolito anche per me non di meno questi possono la fortuna quando ci sorride quindi possono andare tipo loro tutti verso a prendere di soppiatto l'artefatto levarsi dei coglioni via fuga e noi non ci sporchiamo le mani vinta ho i miei seri dubbi no diversivo diversivo andrebbe un po' però a vanificare il diciamo la distrazione di jace io guardo verso la fortezza noto del movimento magari su determinate uscite luci le persone stanno uscendo si stanno cioè non c'è movimento per questo turbine di di nume non salutano mura che che si sta girando intorno alla fortezza e sta davanti a noi praticamente a dire la verità dice jace potrebbero essere molto più utili di quel che pensiamo eh appunto io guardo jace nel caso ci fosse del casino nel castello possiamo auspicare che le guardie si concentreranno lì o scatteranno in qualche misura di sicurezza ulteriore sul laboratorio credo proprio che le guardie si concentreranno a proteggere la capogilda ok questa cosa mi da un'altra opportunità di poter stare vicino a brasca aiutarla jace non ora comunque aiutarla vedi che ti guarda dicendo aiutarla nel senso che la distrae già chi vi manda dice jace vrona tutti insieme ovviamente il nome ci dice qualcosa tomic vrona capogilda degli orzov a bene l'influenza degli orzov è palese che arrivi anche dove molte altre gilde non riescono dove magari molte altre gilde non vogliono sicuramente degli azorius penso io che non mi hanno cagato dall'inizio anche perché hanno dato un cazzo di carta hanno detto no pigliano si è rifletto in fuori ma si sappiamo benissimo che il senato non si sporca le mani con queste robe da persone vere unte muscolose come noi anche perché credo che effettivamente forse gli orzov sono gli unici che possano fare questa cosa in questa maniera Boros hanno decisamente un altro modo di intervenire sulle cose ovvero luce dietro cavalli che spuntano dall'orizzonte spalle in alto e via tutto dentro e noi lo sapete voglio dire quindi adesso grazie a i tuoi bellissimi fantasmini kamikaze possiamo andare possiamo usarli adesso ora sono pronto da 40 minuti non posso più dove ho bisogno di agire più aspettiamo più rischiamo di farci notare quindi andiamo questa enorme massa di ectoplasma diventa una gigantesca onda che inizia a sciamare sul labirinto di Vraska attraversano le piante muovendosi generando vento e aprendovi la strada verso la fortezza di Vsvotigos li vedete mangiare e congelare e necroticizzare ancora di più tutto quello che c'è tra di voi e la fortezza urlano e piangono mentre la fortezza inizia a essere presa e invasa ed essere illuminata da questa luce blu i i fantasmi alistair ovviamente ti comunicano in qualche modo il tuo legame con loro è così senti padrone mentre alcuni di loro vengono schiacciati e distrutti da delle figure nell'oscurità jace dice muoviamoci ovviamente avendo la via aperta dai fantasmi le siepi che che dividono il vero e proprio labirinto sono facili da attraversare arrivate alla porta e potete notare già diversi non morti essere stati uccisi e schiacciati dall'invasione degli orzov all'interno della fortezza e poi un urlo jace fa tremare il mu le mura dove sei e vedi che lui vi dice è il momento buona distrazione un boccazziatone madonna io sto pensando io sto tipo lo dico con gli occhi non lo penso cioè non lo dico a voce alta ma guardo aliser e penso ma subito questa cosa no eh gli orzov sono dovuti fare il culo fino ad ora quando bastava il fiume di casper però vabbè no a me all'urlo di vrasca non è compito mio mettere in dubbio l'operato del nostro capogilda evidentemente sarà stato occupato in maniera diversa e mi immagino che con una tale movimentazione ecco non si ottenga con uno schiocco di dita ad ogni modo jace sappi che non ti sto invidiando per niente in questo momento vedi che lui ti guarda e dice quel l'artefatto non è degli orzov e si dirige verso verso il verso la provenienza di quell'urlo e io su quella frase mi giro verso alistar come se fosse un un sottolineare ciò che ha appena detto io tiro fuori invece gli appunti della mappa procediamo e cerco di raccapezzarmi e capire dove siamo rispetto nel dubbio sto avanzando schiacciando la testa apposta dei non morti già in terra che non si sa mai voglio dire mi volto brevemente verso Malena faccio tipo spallucce su via ancora che dubiti di me credo di aver mostrato a più riprese la mia bontà d'animo e la mia onestà ci sarà sempre comunque spazio per il dubbio e la diffidenza nel mio cuore cominciate ad abituartici Alistar forse arriverà lo dice Gregorio? certo scopate e continuo a correre in avanti ti arriva come nel secondo episodio ti arriva la punta del falcione sul piede ridendo ve la prendo e continuo a correre ringrazia che sei il mio alleato Gregorio a queste impudenze in genere si arriva al fondo della mia lama la forte iniziate a muovervi la fortezza di svodkos è un luogo meraviglioso nel suo essere macabro arabeschi e basso rilievi decorano quella che un tempo doveva essere una fortezza gloriosissima una luce verde spettrale invade tutto e i cadaveri dei non morti devastati dalle unghie e dai denti dei fantasmi rendono tutto ancor più sottile nell'ampia sala su cui penzolano in cui penzolano i grandi arazzi che raffigurano i simboli dei Golgari potete vedere che Vraska è potente e questo luogo è l'emblema della sua potenza salite la scala schivando evitando persone che ruzzolano giusto spinte da questi esteri che stanno muovendosi tra le pareti ignorando qualsiasi tipo di barriera materiale e una volta arrivati a un lungo corridoio fatemi un tiro in percezione eccoci io mando sempre avanti titano di qualche metro prima delle svolte e Jan se l'è bruciato per sempre e questo qua ce lo dimentichiamo eh sì è la madonna ragazzi però quanti venti ho cos'è che hai detto percezione? no io sto guardando titano tiro anche per titano chi di voi ha fatto il critico può sentire distintamente le urla più sommesse della gorgone che provengono da un ampio portone in fondo alla sala grande che vi siete appena superati sentite Jace dire Vraska cosa fai? lasciami stare lasciami stare cosa fate? Vraska è più forte così tanto di Jace ho visto le schede di entrambi non sono non sono cioè se le danno non lo so chi ne esce vincitore per quanto mi riguarda noi abbiamo una missione esatto Jace non sappiamo chi è è una persona di cui conosciamo il grande potere ha detto io vi faccio guadagnare tempo andare a salvare una persona molto più forte di noi da un'altra persona molto più forte di noi sarebbe quantomeno sciocco e vanificherebbe il suo sforzo noi abbiamo una missione più alta io tiro dritto do uno sguardo ad Alistar che percepisco che anche lui ha sentito e gli faccio semplicemente un cenno di intesa nel tiriamo dritto andando verso le stanze di Vraska il laboratorio mi volto verso gli altri dopo aver annuito al cenno di Malenia se non ve ne siete accorti o si stanno divertendo molto là sopra o la situazione non si sta mettendo bene io inizierei a tenere un po' d'occhio la situazione e le stanze per un'eventuale fuga e aumentare il passo per andare a prendere l'artifatto già affrettiamoci non c'è nulla che possiamo fare per aiutarlo le trappole scattano sospinte attivate dagli stessi cadaveri che li sono caduti addosso potete notare degli spruzzi velenosi una cascata d'acido o un pentolone di olio bollente che si è appena riversato nel corridoio e quindi voi dovete mettere i piedi su quella che è una sorta di melma di formata dai cadaveri e cotti ancor di più dall'olio arrivate davanti alla porta in cui Jace che Jace ha segnato sulla mappa ovviamente chiuso a chiave e ovviamente ovviamente ci fico una sciata nel mezzo ah quindi ci vai proprio così io mi sto avvicinando con le due cose no no mentre lui è lì che sta prendendo le due cose e arriva dietro e arriva la sciata fammi una prova di atletica di atletica? si si solo più sette prego dai non è andato anche male vaffanculo signor Gregorio tira una spallata alla porta e la porta si spalanca che bella la scena di lui io rimango lì un treno accanto è come in nel primo Sherlock Holmes quando c'è si esatto più o meno la scena è quella oh 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 cambia scena eccolo eh si eh si oh yeah it's time for botte it's botte di vega time è arrivato in un luogo tremendo il laboratorio degli esperimenti di Vraska cadaveri sono riversati sui tavoli operatori incisi e aperti come se fossero le cavie della Gorgone diverse statue di persone che un tempo molto probabilmente non erano statue sono bloccate in delle pose plastiche e potete notare che Vraska li tiene lì semplicemente per tenerli freschi due non morti in armatura vi indicano con le loro sciabbole e signori tirate iniziativa godo FBI open up FBI è ma tra l'altro è anche che è anche un inside joke del nostro canale quindi mi ha fatto molto ridere e Winchester no e Nino con il suo con la voce marcato a 100 e va bene mettiamo un mostro in più eccoci va oddio un mostro a forma di cannolo non vedo basta dai adesso sono due mostri annellone volante basta va bene mi manca la tua iniziativa Elun 22 è uno a volte è meglio partire dopo ok tocca a te cosa fai tipo ma siamo in D&D quindi non si può ritardare e non si può ritardare l'azione o si? no si può preparare l'azione ma preparare non mi neghiamo un gazzo e io ho il critico anche con la distanza di intorno a 9 metri yes il fatto che parta per prima mi dà vantaggio no perché non sono colti di sorpresa ok posso fare il giochino di nascondermi dietro al mobile e poi spararla lì puoi nasconderti dietro Gregorio che è a tuo fianco no cioè vabbè no avanza e sculto questo mobile qua ok clicca me l'ho cresciuto ok ma Mario prendi il tuo token e trascina ah è perché si si scusa sono abituato altre volte con il master ti muoveva lui ehm mi nascondo di dietro mhm perfetto male male va bene male hai superato la sua percezione passiva quindi non ci sono problemi ok e poi shbar balestrino vada e vantaggio perché si vantaggio si 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 colpito tirami danni più 2 di 6 beh ok 8 e 6 lo 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 colpisci alla alla testa e vedi che un pezzo di cervello cade per terra ma questa creatura semplicemente una porta in basso a destra si apre e una figura a voi conosciuta fa capolino cosa? no è quella che è scappata la zucco ragazzi non vi dovete cacare in mano così tanto fidatevi quando ci sarà da cacarsi in mano siamo tutti cacati ci stiamo cacando su ve lo dirò io questo è menabile dai ovviamente ovviamente questo qui si lancia tocca a lui si lancia in mezzo a voi è un attacco al nostro amato Gregorio è un attacco alla nostra amata Nimue e non prende opportunità da niente? no perché lui entra entra nella vostra nella vostra aria di influenza vediamo quanti attecchi fa ok primo attacco è madonna che cazzo di andare in verità rischi di prendersi un attacco di opportunità da Malena un attacco di opportunità da Malena è vero e se lo prende se lo prende se lo prende vai Malena tirami l'attacco subito prego ci hai provato Nino attacca non me lo so preso tirami i danni damage normale 9 e chi stava cercando di attaccare? Gregorio ah ok allora non va bene solo 9 danni ok Gregorio ti fai lui vedi si colpisce il ti colpisce e ti fa 10 danni con un colpo di spada e uno squarcio sul pettorale e poi tira un altro colpo alla nostra amata Nimue l'hanno fixati i punti vita? no si 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 l'hanno fixati ah quindi io posso mettere si 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 non mi cambia il totale mi cambia le attuali no 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 scendi te li puoi scendere ok godo ok Nimue colpita anche tu e ti fa io mi sa che quanti danni gli aveva fatto Gregorio 10 si io e allora mi sa che uso la reazione per tirare lo scudo ok va bene quanto hai di class armatura con lo scudo? te lo dico subito subito dovresti avere la bellezza di 16 si dai ragazzi è il combattimento difficile dopo si rivela io ho fatto io ho fatto io ho fatto 17 per colpire quindi e allora io mi tengo lo slot di Shid no scherzo e io ti faccio la bellezza di 6 danni Nimue e ti colpisce anche a te con un colpo di spada Nino posso essermi castato major armor prima di entrare qua dentro? sono buono quindi si anzi prima di entrare nel castello proprio ok che vada e morde un'enciclopedia sa i manuali a memoria non sto scherzando sa le pagine dove è scritto qualcosa scudo dice scudo funziona ed è utilizzabile come reazione solo se impedisce il colpo di entrare ok va bene niente niente slot niente slot sprecato signori dietro 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 la nostra cara medusa vedete spuntare sentite la terra tremare e vedete spuntare una cosa che vi preoccupa un po' catroia ehm ah quello è mio quello è mio va bene non fa altro dai cilinella dopo questo combattimento palese Gregorio tocca a te eccolo allora dove mi ha colpito lui? sul petto allora dal taglio che mi ha aperto lui si vede tipo convergere verso il taglio tutta la roba verde fluorescente ciò nelle vene il taglio si illumina mi si illuminano gli occhi lo guardo e gli faccio grazie e vado in ira ovviamente va bene lui da notare che Gregorio ha costantemente l'ira attiva non so perché è buggato va bene ma va bene così va bene così se tu vedi a fianco al tuo personaggio c'è sempre la cosa che urla dell'ira ma non ho le statistiche dell'ira accese è roleplay è roleplay va bene vai tira tira vai vai va bene sei in ira va bene tira l'effetto dell'ira della tua ira ah si è un 8 vero? no 12 un di 8 un di 8 no perché un 100 cazzo dei culi ok 5 5 cosa faceva? aspetta un attimo ricordiamocelo subito allora te lo dico ogni volta una creatura ti colpisce con un attacco prima che finisca l'ira si riprende un di 6 di danni da forza ok quindi è di nuovo le onde d'urto esatto vedete che Gregorio inizia di nuovo a buttare fuori le sue onde d'urto un tipo mentre mi muovo Greg cosa fai? cerco di sfondargli a metà la testa con una sciata chissà perchè mi aspettavo della filosofia e invece gli dico una poesia mentre gli sfondo la testa con una sciata vantaggio yes quindi reckless certo vada beh colpito quanto ho fatto di dado? ah 17 24 no 17 no guardavo il dado effettivamente ok no questo è il danno il damaggio 14 14 vedi che praticamente quasi lo apri in due ma non è abbastanza per ucciderlo io non ho azioni particolari tipo una gomitata gratis non c'ho un cazzo però ok purtroppo no purtroppo no il barbaro il barbaro berserker ti avrebbe permesso sospendendo la tozione bonus di fare un'altra attacca però quanto bello che mano cazzi mentre combattano è bella 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 gian malena il tuo turno allora io mi muovo su quello più in basso va bene rimanendo a portata guarda guarda sei proprio bastardo eh ma non ti preoccupare c'è la medusa lì io ora ti faccio male ok vai 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 aspetta la medusa lì siamo a quagliotrono faccio il mio primo attacco di glaive vada piombinesi ovviamente mancato faccio il secondo attacco di glaive come aziene bonus ok quindi il manino il pomolo si yes 14 colpito un d4 più forza si un d4 più 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 3 ok roll qua sono quattro danni ma lo ritiro perché c'ho ma ciò è esatto esatto 7 ottimo massimo massimizzato vedi che gli sloghi la mascella con un colpo di pomolo e mai altro io ho un'azione bonus che no l'azione bonus solo appena utilizzata non voglio utilizzare second wind action surge va bene così per ora ok perfetto alister tocca a te anzi allora allora dimmi dimmi giallo scusa non posso spostarmi di un passo indietro ancora e esci dalla no perché non sei mai esatto a fanculo bastardo a fanculo bastardo avrei la mia vendetta vado rigiro la lama e poi con un passo indietro lo aspetto a fancola ff3 old back alister dimmi bello è proprio bexway è proprio bexway di liceo sì 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 il back for ok domanda in bestione sì capiamo che è un non morto yes ok a scanso di equini a sto giro direi che spostando i cavalli spostando i cavalli nel dubbio allora direi che un bel un bel turn and head su di lui non glielo leva nessuno mai deve fare un tiro salvezza a scacciare tutti quelli nella zona che lo vedono tutti quelli che inscritto rover choice dovrebbe essere adesso da riguardo ce l'ho scritto ok quindi devono fare tutti un tiro salvezza certo a parte a parte la tipella e 60 fit e tutta la stanza si si li becchi tutti fede 60 piedi un signor profilo 60 ingressato ok sono 30 fit la madonna anche l'orco se lo vede però l'orco non lo vede no non lo vede 30 figli poi arriva ragazzi loro sono a 45 fit di distanza scusa nino ma noi l'orco l'abbiamo visto sì 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 è quindi lui vedono i bordelli della madonna lo può anche sentire l'orco è un po dentro la stanza o è nell'altra stanza intera nella stanza nell'altra stanza si è a come cazzo si è fatta a vedere perché è enorme e lo vediamo dalle porte aperte esatto a ok non è un po dentro e qui è esattamente qui è perché quello sprite c'è il braccio dentro non si capisce ok quindi quindi dove dov'è la zero ci arrivo così no ci arrivi così sia se esattamente a 30 fit da lui ok allora turn and head ok rolla ce lì e non devo fare un tiro salvezza solo per lui quindi allora scusatemi e per tutti gli eventuali bastardelli che mi possono sentire che sono nascosti inguacchiati da qualche parte a trassare ok sì anche perché la gorgone non è una morta o se vedi che entrambi resistono alla tua cosa non riesci non riescono a non iniziano a scappare sono lì sono volentero c'è anche l'altro l'altro zombie peccato che la medusa non è un non morto ma non ci sono due più logre l'orco lì cosa sono quei white e logre zombie sono entrambi non morti ho fatto il tiro salvezza salvezza passato ragazzi i white sono due ai white solo due scu hai ragione hai ragione fosse già morto fosse già morto sposti piandone ti salvi la vita fosse già morto vabbè ok questo qui vedi che si caga in mano infatti tocca a lui beh a che minimi che ho finito io dai fermate avere con l'azione bonus casto arma spirituale yes la posso posizionare a quanto anche non ricordo adesso a un range se non mi sbaglio di 60 feet alla strada grande proprio l'odio e l'incantesimo la mettiamo accanto alla la gorgone ci potrebbe stare e gli tiri una scazzaccagnata schifo non non gli fa direi allora ora non l'ho mai usato quindi tira fai l'attacco per la tua per la tua arma spirituale e cioè le armature rituali bagate in ogni gioco che le uso non mi sanno sempre colpitissima in mezza esatto l'hai preso io damage tira il danno porca porca miseria di favor si materializza proprio un non morto che regge un mega falcione enorme super tetro con quest'aura verdastra che inizia a menare fendenti mugugnando qualcosa di incomprensibile io posso dirti una cosa tu hai casta le scacciarono morti è un incantesimo no esatto va bene basta me lo sono me lo così ragazzi vedete che la creatura che avete in mezzo quella acquistate per fare il cappottone utilizza la sua azione di disimpegnare per scappare e mettersi qui prende 12 attacchi d'opportunità così usa la sua che è una domanda o una domanda lui dovrebbe allontanarsi il più possibile da da cosa da star da alistar questo vuol dire che fare questo movimento che hai fatto tu lo fa avvicinare seppur per poi allontanare non dovrebbe andare tipo qui è vero dovrebbe andare o nell'angolo siete proprio stronzi si chiamole regno li siete proprio stronzi quindi il white si mette qui prego lo potete ammazzare adesso allora no perché non concede attacco d'opportunità non è al greggiorio né a ne a cosa né a ad elun alle del un al massimo animo e se non avesse fatto l'azione di disimpegno qual è il punto ha fatto l'azione di esatto quindi se si mette lì mi muove tocca a te cosa fai vai dall'altro è inutile quello è morto raga mi danno segnali ma delle foche non lo ritirano fuori più nel cappello dell'asino e l'orecchio non è un azione mi ero mutato da solo scusate dici tutto elun no la mia domanda era lui che corre per la paura alla lucidità di disimpegnare si possono usare l'azione di disimpegno andare ok fabi cosa fai allora io farei un bel main sliver ok sulla mitica gorgone vada ho un disegno nella mente ma chissà che funzionerà attenzione attenzione scusate un secondo controllando channel divinity non può fare disimpegno possono usare come azione l'azione di scatto quindi prego il prego che è morto proprio esatto quindi tutti quanti dovete fare l'attacco d'opportunità su di voi cioè no solo solo nimo è perché non è uscito dalla vostra era di minaccia anima e muoversi all'interno non causa era no 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 quindi mi vuole entrare non causa muoversi uscire sì no finché rimane all'interno dell'area di minaccia ti puoi muovere ma non causi attacco d'opportunità se roba te da pathfinder la quinta la terza tutte le volte cambia e lo so nimo e come lo uccidi lo uccido per necessità in maniera veloce molto pulita ok gli tiri una coltellata alla base del colo e gli stacchi la gli stacchi la testa ok fabbi è molto c'è il taglio è chirurgico cioè è il minimo indispensabile per farlo cadere a terra morto non morto chi lo sa la medusa nimo e riesce a resistere al tuo incantesimo e vedi che ti soffia contro e e l'uno tocca a te allora io mi muovo qua a riparo del banco e comunque in prova impallinare il non morto ok puoi utilizzare la situazione scaltra per nasconderti sì sì scusa sì quello davvero effettivamente non l'ho detto ma mi nascondo e perfetto dove sei sparami sti 4 di 6 di attacco furtivo mamma mia tirami il danno lo raddoppi e poi tirami 4 di 6 deve tirare due volte non si conferma il critico no no quando ti fai il vero naturale tu raddoppi tutti i dadi che lanci il danno del di bonus rimane lo stesso quindi sono si estrezze inca non cambia e ritiri due volte tutti i dati che devi aggiungere quindi sono in 28 più 4 di 6 ok la merda è a ea a lui a lei o a lui mario era uno stricciattolo perché non pensavo di sfruttare di aprire la strada malena e niente un missile terra d'aria mario cioè non avete mai visto sparare dei quadrelli esplosivi in vita vostra ma quello che ne rimane dopo la quadrellata sul povero coso è semplicemente una poltiglia e vedete schizzare gli organi del putrefatti in faccia alla medusa che si incazza e ovviamente la medusa avanza e mia cara attacca di opportunità attacca di opportunità esatto allora la mia scheda il mio inventario gianne quello al primo banco a mettere l'espressione sbagliata di quattro era era anche il bambino che al cambio dell'ora prende libri prende libri in faccia però lì lancia al professore mancato 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 vedi che lei ti si avventa addosso è primo attacco 19 prese sono otto danni col primo con la prima artigliata sono otto danni e vediamo la seconda artigliata 11 mancata mancata vedi che ti che gli artigli ti sfiorano il capo ma non non riescono non riescono a colpirti è bellissimo ti stavi avvicinando ultraman singola telecamera il bestione padrona e vedete che inizia a rompere i tavoli operatori e si avvicina a elun che mi vede nel io ho una sola reazione a turno non posso dopo 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 il tattacco la furtività non esiste più che palle e no va bene va bene ci sta a livello 21 per colpire credo di averti colpito elun e sono undici danni vedi che con questa morning star ti colpisce in faccia e titi poti tirano quadro no quanti danni 11 gregorio toccate 11 danni sì 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 eccolo come ciò in quinta c'è il bonus dell'attacco se salti no 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 ci sono proprio delle flange ci sono le skill per fare l'attacco in salto la carica ma non sono delle no ok no perché la mia idea era prendere in corso saltare su un tavolo e da questo tavolo arrivarne il capo a lui con una sciato comunque è molto tamarro si è tamarro ma non c'è tamarro a livello di scena ma non c'è un bonus niente va bene lo fai lo fai ma non è un bonus vai lanciati c'è il dotto sono qua ok no qua circa no mi conviene in realtà sarei qui a livello di quadrato giusto è ma lui occupa quattro quadretti ma lui non è sul tavolo è qua e davanti al tavolo lui è sul tavolo credo perché non occupa quando lui sta distruggendo tutto quello che ha sul suo terreno va bene sono accanto è l'uno quindi no sono no sei uno ci sono pesato che hai fatto esatto sì sì e li dico buonasera va bene e spegni la candela a male colpito poi mi dava bene a merda vedrai come cazzo lo manchi bene mamma mia vedi che lo colpisce allo stomaco e le budella di cadono per terra con un suono 20 a forza è esatto gian dopo che te io dopo per essermi presa la graffiata dalla gorgone la guardo male ma logre un problema quindi io faccio un semplice passo ok e calo il falcione sull'ogre mai anche perché mi sa quanto c'ha logre colpito colpito grazie armatura 6 bimbitinio io ti è enorme e nudo tiro il mio danno normale sono sei perfetto ma mentre il falcione cala viene come investito da una luce sembra quasi liquida e si sente proprio un tuono nel momento che cade e casto divine smite ma di il primo 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 è giocata finalmente quindi quindi uso uno slot incantasimo ma di e tiro 2 di 8 ai mai un nec mediocre vabbè da le 17 danni è continuato ad assorbire padrona azione bonus attacco di nuovo mai 17 colpitissimo non di 4 p3 sei danni vedi che con lo stai distruggendo di botte senza pietà alcuna action surge e manda non è debolere così non si ok no i non morti dovrebbero sì che questo sono soldi aspetta i radianti no ragazzi no non è non è peccato va bene solido attacco una terza e ultima volta il blade mai 15 colpito ti ha voti ci sono quelle debolezze a caso tipo boe e debole a fuoco senza un motivo sia anche a me sta facendo un sacco siti tenerezza questo greco ritiro perché perché ho maestro delle armi possenti quindi posso ritirare 1 e 2 ok ritira vai ma scusate ma è cambiato nome da radiosi e radianti ritirano unicamente no devo tenere il secondo risultato di anti porca miseria mi faccio solo più altri quattro danni purtroppo non sto tirando benissimo però va bene quindi quattro danni più undici danni sono 15 più altri sei danni sono 21 più altri sei danni sono 27 danni in totale signori sentite uno scoppio di pistola alle e logre viene colpito da un proiettile come il rak dos kill stealer il problema di rak dos non lo vedete dov'è appunto non c'è dov'è inutili o scarselli io inutili o scarselli non è poi così inutile ha rubato la kill è il mio livello ma non l'ha ucciso ma quindi tocca a fare ora anche di fin non si vede ragazzi flin in questo momento avete sentito un colpo di pistola ma non sapete dove sia alister tocca di nuovo a te cosa fai allora io sposterei l'arma spirituale ok con l'arma spirituale posso attaccare con l'azione bonus vero sì sì ok quindi la sposto sulla gorgone vai e iemenamo prego e gli dici bella letta la recupero bella rega colpissima mamma mia la sta distruggendo allora arriva ancora sì dove rifiuto eccola arriva ok vedi che la tua arma spirituale questo 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 fantasma continua ad appientarsi sulla gorgone e la style in qualche modo vedi che non è ancora messa male ma sta subendo i colpi e poi devo fare la sgravata ora stai a te da ecco lo so cosa sta per fare porca di quella poi sei basta delle palle prendi le palle una bella benedizione le palle non mi ha preso le palle una bella benedizione e la castiamo e luna gregorio a malena una domanda il gigantesco ogre è uno morto sì allora devo tirare un di otto in più di diva in smite perché da dicitura dice the damage in crisis by one di eight if the target is an and ed ora find vada mi aggiungo un di otto al merda sbagliate oggi sbagliato scusatemi un attimo non voglio cose varie ok che bello state cadendo nella mia trappola vi amo quando fate così va bene tra poi vincere e quindi morire complessa vi ricordo che avete il più quattro potete adesso utilizzare più di quattro in più potete utilizzare la reazione per attaccare immediatamente qualcuno che aveva porti scopri che tipo logre c'è un aftermath di 50 danni ad aria quando muore esplode può darsi quindi possiamo farlo già adesso possiamo già utilizzare la nostra reazione per attaccare di nuovo giudico sì vai allora mi tiro indietro e nel frattempo gregorio e non ne lascio a voi la palla è l'un tu hai già diritto attacco furtivo se se usi la cosa in mischia ma io però devo cambiare c'è quella con la balestrina tiri con svantaggio con la balestra su cosa altrimenti portare sulla gorgone non fornisce copertura la posso switchare a coltello c'è a spadino no devi spendere la tua ricona però se tiri sulla gorgone comunque furtivo perché ci sono io entro 1,5 metri allora e allora tirano sulla gorgone attacco furtivo una delle osse ma sempre mandato in più in paranoia di dungeon dragon io lo adoro e da capire quando cazzo è furtivo e quando la 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 madonna l'hai colpita quasi quasi poteva fare al critico invece esatto ringrazio che non è critico ok no che tristezza 12 da mario un quadrello il mario nella nella spalla mario grega adesso mi riconosco mario per una mamma domanda a vedersi logre come stanno visibili segnali di poter scoppiare morendo fammi un tiro in percezione orca troia sarebbe utilizzato bene per percezione sì che vuoi fare percezione col tiro gonfio ok con ispirazione togli uno tiro il vantaggio semplicemente con vantaggio di capo ok no non sembra stare esplodendo ok no non stare esplodendo ma ha l'impressione di poter essere gonfio di merda e se muore c'è a ribolle ci riesce il perfumo d'orecchio no in alcun modo e allora niente non sarà quella la trappolona e il nostro simpatico master si è lasciato sfuggire di nuovo la mia azione cioè io uso la reazione concessa mi da alistar per attaccare di nuovo quando quando qualcosa una domanda fatto un cazzo e ma no allora tu hai usato la tua azione per fare il tiro su percezione pensavo la bono no le prove di abilità sono delle azioni azioni ho guardato il barbaro domanda il fan da fiera mi sono messo sì scusa sbagliato sbagliato ha già sbagliato va bene domanda anche la gorgone conta come non morto guardano la barba no è una gorgone brutta si è nato e allora attacco di nuovo logre poi la reazione comunque delmo ce l'aveva e ma la usata per la reazione è una reazione che non poteva fare tutto il coso saltare bom si è continuata a fare così tanto la punta al cazzo io vi spawno il mondo sto scherzando non si può le cose vanno fatte a modino vai colpita colpito e tiro il danno nel del grave finalmente jean come lo uccidi semplicemente dopo tutto quanto il lo sciavordare dovrei anche giungere di 4 dopo tutto lo sciavordare di falcione glielo pianto proprio alla legolas con logre di caverna però dal basso verso l'alto gli si pianta tra mascelle cranio e sfilo il falcione per farlo cadere su se stesso e stramazzare al suolo distruggendo il tavolo che su cui stava e adesso esplode no in culo a tutti scoppia after matt quante danni a testa gg si rifà le schede no vedete la vedete che subito dopo jean subito dopo la reazione di jean no niente prego niente hai finito il tuo turno ok con mestizia mi ritiro nell'angolino delle foche facendo guardi fabi tocca a te è rimasta solo lei quindi sì che noi vediamo è vero mai insomma e no perché io c'è a me mi calverebbe di chiacchierarci con un'altra ragazza dai capelli serpentini però mi limiterò l'avete visto cosa l'avete visto tutto no no non ho visto è apparso un cazzo di ocre gigante qui al lato dello schermo ma non l'ho visto ma una roba enorme vuole di te hai rullato a venti su percezione che hai fatto la signorina dei serpenti che esammona gli occhi quello quel il giant questo questo qui questi immagini è apparsa a sinistra non so di che cosa tu stia parlando ok allora ok allora io devo provare una cosa questo tasha's mind whip ok poi le poi le poi le lecce a 100.000 andava a trovare e in realtà ce la fai godo ottimo che fa allora la prima di questo è che non può fare reazioni fino al prossimo turno e nel suo prossimo turno deve scegliere se fare un movimento o un'azione o un'azione bonus solo una delle cose rallentata quindi prende 16 non è amico una frustata un fronte la vedi la vedete tocca a lei tocca alla medusa che agisce alla stessa velocità di elun e le sentite urlare vieni qui è il momento di combattere sentite è arrivato già gli esperti è ancora più grosso dell'ogre esattamente come quello che avete incontrato nella 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 foresta prima della cosa però questo è vivo o è non morto poi si gira verso il nostro caro gregorio e ti dice guardami dritto negli occhi e gregorio fammi un tiro salvezza costituzione ma te lo farò anche il d4 e ricorda di quattro ricordo aiuto aspetta clicca su cos si con lini di nei sevin trosa prima a qui a constitution è il mio cervello cercava cos non con questo di 4 si è direttamente cosmo 11 dc uno di pietra i tuoi piedi iniziano a diventare pietra or codin c sei restrained e vedete che sta continuando a salire la pietra ok che gli occhi e lui non ti vede gregorio e l'unico cat qualcuno già rimuove maledizione roba ancora come no e io scivolo su mano salto sul bancone salto sul cadavere delle del bestio piombo alle spalle della gorgone vai mi taglio i piedi da noi che non ho le gambe e quindi io non posso avere ancora il coso la scuola corta se lasci cadere la balestra si la puoi scoderarla in movimento dici che fai una sega e sia marone muoviti dove vuoi a giochi altro non so quanto ti convenga farlo c'è anche con la balestra lì comunque direttamente per uscirne è un cazzo gigantesco basta finito pg rifaccio rimane una statua per sempre nel castello di colgar colpita di ziotto a cotorato attica ti tagli le gambe poi vieni nei simi che ti facciamo tipo i piedi di una paperotta e bimbo intagli le gambe ok vedi che sta iniziando a sentire le ferite ma è ancora in grado di combattere delmo fammi un tiro salvezza costituzione costituisci la pietrificazione si ferma e braccio piedi no vedi che inizia di nuovo a ad andare ad andare la la petrificazione inizia a andare via mi savo tre tiri di costruzione fido pg no mi savi due tiri di costruzione è rinculato i piedi di balza tra l'altro tra l'altro ci vuole greater restoration per togliere la prettificazione ed è un casino quindi è portevata portavate la mia statua in città a cercare un chiaro di oli forti come gregorio tocca a te non sei più restrain incazzato come le bisce mi vado mi sono sentito crescere le ag ai piedi praticamente mi sono un attimo incazzato niente punto lei con un enorme forza il furosissimo sdegno mai devo passare no non posso scavalcare sì sì poi poi devo andare qua quindi si gli è meno a ma tutti gli hanno fatto la cosa a me il d6 di forza l'hanno mai non ti hanno mai toccato e quindi mano mazioni niente non c'entra un cazzo non hanno mai toccato trovato esa mancata il cane il cazzo sarà reckless era reckless hai già tirato con vantaggio ok mancata vedi che schiva la tua sciata più di 15 di classe matura stato yes vedi che il gigante delle colline padrona ma lena o una domanda si attacca me il bastardo yes allora in realtà non può andare lì pur qua perché c'è l'un occuperebbe il suo spazio di minaccio ok a posto va bene e uno indietro ma comunque ha fortunatamente a range con il suo grafico e quindi malena che arriva un colpo di cappellata gira di sia sono 33 danni male nata no vado su riservezza su morte si tira un colpo e ti schiaccia al muro vedete malena essere schiacciato al buro con un colpo di con un colpo di 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 mazza io me vabbè non è morta stabilizzate stabilizzare svenuta che è svenuta vado su riservezza su morte la curina dai vabbè quando tocca al ser già abbiamo anche noi cinque sei pergamenti di risurrezione ma no è stabile se va zero basta curarla non è morta no no non hai capito sono attivi salvezza su morte io sono a meno uno io adesso devo tirare i di venti di salvezza appena si stabilizza si può curare torna attiva può curare che prima era direttamente deve toccare ad alister di ok malena tira salvezza su morte per piacere che l'uomo nell'angolo delle fuoche si è così tranquillo passato senso è passato ok alister tocca a te con l'ora il dovere lo impone il dovere l'ora ci si avvicina nel dovere il cazzo ritto lo impone smettila dove la tocca mi faccia millantare mi dia la possibilità di cantare sta confermando è detto detto sandro allora stella sentito l'ho detto e prima di di curo ha detto guardalo seppure avvicinato un apriliano azzaccagnato infinito e prendi di nuovo poi vuoi fare di nuovo la reazione immediata e chiaramente quindi ora appena tornaggiano però non può fare cose vero così con la reazione può attaccare e allora attacco la gorgone tipo subito mi alzo il tempo come mi rialzo proprio portico sto cazzo di falcione perché mi girano le palle mai e mi girano i coglioni vai di clave ho perso il conto recitazione del giorno è diventato è diventato tutto il trio stasera 22 colpita il d4 non lo aggiungo ai danni giusto no no e allora per colpire 6 pochino l'amai li tiri un colpo in faccia è bello sto pensando se smaitare o meno poi poi certamente provarci beh no 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 è o lo faccio o non lo faccio non so era era una citazione dai sofia concedimela almeno allora allora ma c'è la giusta fare o non fare non c'è farlo fare non c'è provare nino dati un punto intenzione un punto di aspirazione non lo so poi anche tenerlo per il panzone anche di chi entra tutto che non morto e no il gigante delle colline sembrano morto è un non morto allora non lo tengo hai visto fabi tocca a te aspetta 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 carmo ma è vero l'arma spirituale come di norma e sono gli spiriti che si muovono per alistair ma durante la cura avete visto alistair di nuovo avvicinare imporre la mano e di nuovo avete visto uscire una sorta di fumo da malena che alistair ha inalato poi c'è l'arma spirituale c'è l'arma spirituale ma da qua la posso ricastare consumare lo slot e non puoi metterlo mentre non consumi lo slot secondo me lo devi fare dalla dalla città c'era scritto da guarda se fai i place intanto facciamo si mancata e finalmente direi ho provato posso puoi mettere il cosino con la mappa fa fabi tocca a te è quello sì ok allora io innanzitutto vista la situazione pietrificanza appena mi accorgo di quello che succede intorno a me chiudo gli occhi e lascio che siano le serpi a guidare i miei movimenti ok detto ciò approfitto di niente casterò un chromatic orb e vorrei prendere la gorgone ok non arriva non arriva non arriva arrivando non è ancora arrivato a boia 10 ma ovviamente la gorgone schiva la gorgone tira uno schiaffo al nostro carissimo gregorio basta e ti colpisce che è chiaro e ti fa che cazzo dici ti fa 10 danni gregorio ma come l'hai detto sembrava 36 o uno schiaffo però ho massimizzato 23 e poi un colpo sulla nostra malena che ovviamente la colpisce ragazzi io non sto barando a vi faccio vedere vi faccio vedere i miei tiri i miei tiri per colpire e c'è così se il master che ha di mezzo i danni in ira no che fa di mezzo i danni nero i nero sì 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 questo di mezzo quindi sì sì no io te l'ho già dati dimezzati ragazzino ma non c'è fatto 20 danni di schiaffo yes è un cannone sei danni ha massimizzato stavolta è vero però penso deve prendere un di sei e si cazzo tira tirami il di sei ben vedi vedi che ti tira sto schiaffo ma va indietro gian per te sono quattro danni quindi arrivo a sette punti vita esatto elon tocca a te cosa va a fanculo elon la fromboliamo rombola rombolieri di silsix io sto tirando con vantaggio sì perché le minaccia 4 18 vabbè vai tirami il danno ok tirami il furtivo ma questo che pare di coi ok de gregorio tocca a te cosa fai di gregorio sono diventato un cantautore delmo e poi gregorio io vorrei effettivamente lasciare a voi lo sfizio di indovinare cosa faccio secondo voi la zaccagni tira colpita e come se l'hai colpita tirami danni no no bene fieri 13 delmo come la uccidi modo quello ucciderla io allora la prendo per il collo si la tiro su e nel tornare giù gli faccio tipo dal basso verso l'alto con lascia per aprirla tipo a al libro mentre scende la apri in due e vedi che nel modo di fare questa cosa lei si volta e i suoi occhi iniziano a lanciare raggi pietrificanti dovunque e fica e fa caldo proprio ad a terra morta vedi che è il gigante potrò no mesi pietrifica perché ha visto raggi ha preso raggi non gli va li va la raccoglie e o esce dalla raminacciata sì lo so se lo piglia gregorio malena alister e ed è animo e fatemi una prova di atletica anzi un tiro salvezza forza salvezza forza si lo salvozza terza ma io no giusto no no 18 ok 22 vedete che lui la raccoglie inizia a correre e si muove allora al alister e nimue venite sbalzati a terra dalla sua dalla sua carica in qualche modo che non mi permette di colpirlo ma gregorio e malena fatemi un l'attacco di opportunità perché lui fuoriesce dalla vostra area di influenza va bene io no perché una palestra vero no no tu no porca te lo vedo 9 più di 4 di 4 john 10 colpite entrambi tiratemi il danno vabbè 13 cos'è oggi abbiamo la trisca decafilia wow vedete che si piglia i vostri colpi sfonda la parete e va via non c'è più niente madonna nella stanza ma io volevo finirlo il merda lui ecco è corso via non ricorriamo per fargli il no oddio non è questa la nostra missione forse è una cosa che ci è andata bene si è scappato è un gigante delle colline non è esattamente l'ultimo degli stronzi noi muoviamoci tanto li vediamo abbastanza caos in generale ma prima però i zombie la gorgone mi sembravano belli equipaggiati bene la gorgone è stata portata via è dico non ha lasciato un cascato niente lo strappa a metà cascato nulla a terra o ivra i danno qualcosa di interessante addosso mai tanno iv ha it addosso hanno le loro armature borchi alle di pelle borchiata che per sì e per no sì ma io più buono se sto nudo vero io arrivo 17 io guardo invece dove teoricamente dovrebbe essere la mappa scusate scusate niente stiamo sempre nella zona con la mappa notate che da qui provengono da questa zona di qui provengono delle luci eh io ho la mappa teoricamente la penimetria più o meno precisa del laboratorio lascia esatto esatto dove dovrebbe essere la pietruzza non lo sai queste sono le stanze di brasca ah quindi lui mi ha fatto la mappa ma non male tutto bene esatto ti ha detto queste sono le stanze di brasca e verso la stanzona da cui sono venuti tutti perché un di 12 più 2 gian mi sono castato second wind quindi mi sono curato ho fatto lion hands e second wind sono a 31 punti ferita ok a posto io sono visibilmente cioè io sono a metà punti vita quindi in realtà non sto così male però se qualcuno vuole curare io non lo chiedo per carattere sono messo ancora bene però non so se qualcuno io pure sono a metà ma per il momento sono focussato sul trovare la cosa io io avrei bisogno di andare un attimo in bagno e poi riprendiamo ok pausa 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 siamo hai detto io lutto i verite a parte ovviamente le armature non le storie al togliere e mettere tutto ciò che di piccolo e di utile vedi che non hanno praticamente nulla addosso a parte le loro spade lunghe i loro archi e logre l'angolo video era ok logre era praticamente nudo non aveva nulla addosso a parte la sua gigantesca mazza e la zona l'ambiente in cui siete è completamente devastato non c'è più 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 nulla che possa in qualche modo diciamo far far capire che quello prima era una cosa per dissezionare i dissezionare corpi le statue sono state distrutte tavoli ribaltati e a voi signori cosa fate io passo di fianco ad alistair li tiro un pugno sulla spalla dicendogli solo grazie e tiro dritto lo vuole e di che alistair sta proprio ansimando al fiato corto come se faticasse quasi a respirare e puoi vedere solo il contorno degli occhi che è un po più scuro del solito vedi che si prende qualche secondo prima di prima di risponderti beh dovere no però anche tu ci sai fare con quella picca l'occhiettino non l'ho fatto eh giuro non lo vedo attraverso l'occhiolino è fan service si fa qualche si può muoviamoci non so per quanto ancora jace riuscire a trattenere le brasche troviamo quella scheggia e andiamocene da qui mi avvicino ad alistair e così sulle faccia perché ora perché c'è la missione sono me dopo vado via nel frattempo io cercando sta cazzo di pietra vedersi qua scopazzano lì dietro no io sono venuto con te a cercare la roba però volevo entrare così mi avvicino ad elun elun scusami nel nella tua mappa per caso posso vederla sono segnati delle delle trappole ho indicato esclusivamente la planimetria c'è qualche nota qualche appunto si ci sono segnati ci sono segnate diverse trappole nella stanza appunto vicina a questa c'è in questa stanza di qui a buona sapere voi capite che qui siete nella diciamo questa è la stanza delle dissezioni lo studio alchemico viene proprio è questa stanza di qua ci sono diverse trappole qui qui e qui ok tengo tengo tra le mani la mappa per un po e poi mi mi dirigo verso quella stanza mi giro verso elun cominciamo da lì allora sembra la zona più probabile mi muove tutti perché per sbaglio le hai selezionati tutti con tipo con lei come icone esattamente faccio a selezionarne uno solo come esattamente con le icone seleziona salute non me lo fa fare tasto destro tasto adesso sul nulla adesso sul nulla mi apre le cose allora fai così fai proprio tipo disegna un arco come se cercassi di prendere più icone ma seleziona ma fallo solo su di te a mai grande ok in tutto questo di noi se tu parlavi con me io stavamo già muovendoci verso la stanza sono già qua infatti raga non c'è bisogno che spostate token perché sennò se vi sta spostando che in un casino siete dentro la stanza trappole dove sono che almeno ci stanno pari entrate dentro questa stanza del vero e proprio studio di brasca notate ampolle a lambicchi e una grande scrivania sul fondo della stanza ricoperta di pergamene e di vari varie posizioni sentite che in questa stanza sono stati compiuti riti innominabili l'aria è pesante ed è tutto scuro in una gabbia al centro della stanza sembra esserci una creatura una creatura che sta vivendo il suo passaggio da la donna a medusa è lì che fluttua dentro una gigantesca ampolla dentro una gigantesca vasca e sembra stare lì fluttuando ancora inconscia in qualche modo le trappole scusami perché io su questo non sono competente nell'ambientazione magic meduse si nasce si viene trasformate diciamo che diciamo che vrasca non ne sono sicuro ma vrasca fa esperimenti mettiamola così vedi che lì che appunto sta fluttuando all'interno di questa vasca le trappole sono una all'interno del calderone e l'altra nella scrivania nella scrivania la scrivania mi ha tirato l'attenzione volevo farmi osservare per vedere se c'era qualcosa e poteva far capire se potesse esserci dentro qualcosa di importante sulla scrivania potete tutto notarlo c'è una cassaforte appoggiata molto piccola ma appoggiata sulla scrivania ci sono delle note su che tipo di trappole sono no la scrivania è armata da una trappola io ignoro la tizia nella vasca e mi muovo verso la scrivania fermandomi poi a debita distanza e comincio a capire a guardare intanto anche per terza c'è visto che non mi ha lasciato nessuna traccia se non c'è qualche trappole di prossimità e poi vediamo io mi avvicino invece la vasca ok prima ad elmo ed elun fatemi quindi gregorio ed elun fatemi un tiro di percezione o 11 elun ti accorgi che diverse rune sono incise sulla sulla cassaforte e risplendono di una luce marcia la cassaforte ha un lucchietto che lo conosci è uno dei più complessi ti servirà tempo per scassinarlo e sai che al tocco se sai perfettamente che se la prendi e ve la portate dietro le trappole scattano gian fammi un tiro di indagare invece tu in site propositi di indagare domani l'oro di marders e martedì su youtube qua il site o per sé o scusa investigation andrà male 13 vedi che la questa questa medusa e in gestazione da poco capisce ancora troppi lineamenti umani ancora dei capelli che gli crescono era una ragazza bellissima prima di diventare questa cosa mi giro leggermente io volevo solo chiedere che se no chiudi tu no chiudi tu volevo solo sapere che c'è se riconosco dei procedimenti di stampo simic nel modus che sta avendo brasca di trasformare questa creatura no i simic sono molto più chimici questo qui è più negromanzia quindi la stanno trasformando da morta no no è comunque viva ok un rituale comunque legata ci sono ci sono dei cavi o comunque delle cose stanno mandando dei nutrienti stanno tenendo viva questa cosa sì che corrono lungo il pavimento che appunto riempiono la vasca io non mi giro mi giro verso nimue lo guardano dopodiché torno sulla donna dentro il silurone e con e bus sul sul vetro cercando di attirare attenzione cercare di svegliarla lei apre gli occhi e sono completamente ma qui e poi la vedete iniziare a prima vi metto a fuoco prima e petta 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 è saltato tutto puoi ripetere saltato tutto inizia inizia a bussare sul vetro della vasca impreda palesemente al panico io alzo la mano cercano con lo sguardo di farlo capire tranquilla un attimo tiro un urlo ad elun che so che è oltre concentrato su altro c'è un modo di aprire questo cilindro io guardo malena c'ho la shaman così butto un occhio ai cavi e faccio come sicuri se tu fossi lì dentro vorresti che qualcuno ti lasciasse qui oppure vorrei che qualcuno mi uccidesse prima che diventasse una macchina di morte in ogni caso cilindro deve essere aperto elun mi giro e guardo il cilindro capisci che l'unico modo è svitare il tappo che c'è sopra ma è un lavorone anche perché il tappo almeno 100 kg pesa ma io forza venti non è abbastanza ho capito ma non sei superman ma forza venti sei tranquillamente torby orson 100 kg li ha no no bro con forza 20 tu potresti lanciare senza troppi problemi un sacco di 60 kg ma svitare in una posizione scomoda un tappone di più di 100 kg no va oltre anche il tuo cioè svitarlo proprio e sollevarlo ma un po oltre con le tue possibilità se vi mettete tutti insieme ce la fate io sono solo attenti nel senso io ok capisco cosa vuol fare malenia malena la guarda nuisco mi avvicino ma io sono pronto cioè si sbrocca e taglia la testa né greg un modo c'è per farlo uscire rapida e paccare tutto è però voglio prima se more è prima prima è lui ci deve dire se come si può aprire poi ad occhio sembra chiuso solo dal tappo da quel pesante blocco di metallo in cima io sembra da vado ha svitato ma non credo sia una cosa pratica da fare in questo momento le alternative volete che con estrema precisione invitando il corpo io spacchi la teca io guardo guardo elun lo ringrazio con lo sguardo io torno a guardare la scrivania faccio accenno alla ragazza di allontanarsi di mettersi sul fondo del cilindro gregorio nel dubbio lo faccio di piano indietro di chiaro prima che gregorio ovviamente è la cosa più sciocca che puoi fare però ho paura di andare troppo oltre nel test del senso di piatto si incrina poi ci fico un cazzone per quello che dico la tipo di schiacciarsi contro la parete opposta in modo che è più difficile che la mozzi in due vogliamo vado di vado di liscio già vado di filo vogliamo andare di filo un attimo prima che gregorio colpisca ma siamo così sicuri di voler fare attenzione a non colpire anche lei vero sì io mi giro stortissima io faccio proprio spallucce colpiremo fuori non ti preoccupare o che lancio altruistico ma mi sembra solo una perdita di tempo non siamo qua per salvare vite più o meno deplorevoli salvare una vita non è mai una perdita di tempo altrimenti non avresti salvato anche me o perdonami alistar il tuo comunque un ritorno personale gregorio quando vuoi io senza girarmi sono lì che faccia comunque lo stiamo perdendo tempo perché lui sta cercando di fare le robe le alla schivania quindi boom occhio quando rompe il vetro che rischia di cadere il tappo rompi il vetro e la ragazza in avanti riesce dal vetro e il liquido si sparge su tutto il pavimento la vedete la raccolgo e spostandole i capelli dal volto respira grandi rischi non ho posato lascia ce l'ho ancora in mano e guardo la situazione vedi che lei aiutatemi vi prego elun cosa fai allora io lascio un attimo perdere la cassaforte e scansiono la scrivania in ricerca di possibili altri appunti piani cose magari ha segnato qualche sta lavorando su qualcosa di utile e quindi vedo se ci sono degli indizi un diario chiuso dal cavi da un chiavistello anch'esso molto più semplice e poggiato sulla scrivania ok e che vi stesso questo sembra privo di rune magiche sì questo si lo apriamo lo apri e ci sono appunti sui rituali di nasca via tutto e dentro tutto via al momento che leptomania 3000 di elun mai momento poi devo capire esatto devo capire se quelle rune si attivano a quindi io li lancio sopra qualcosa con la maggio non magica li faccio scattare a vuoto tiro di indagare si attivano quando qualcuno tenta di aprire la cassaforte se non è abbastanza bravo da riuscivo qualcuno di fisico con un bastoncino non le inganno insomma con la bastoncino non lo fottino proverbiale bastoncino e con bastoncino di ghiacciolo consumato da una giovane ragazza non mi gettare potete vedere e io sto continuando ad ansimare ho un linguaggio non non verbale molto rabbioso strano non l'avete ancora visto alistair in questa maniera e non l'ha visto nessuna parte in realtà alistair alistair mi fai perché salvezza saggezza non devi dare spunti al ma tutto va sempre bene io sono bastardo nell'anima o si che usano lo hai lì usalo immagino la sento la percepisco come un pensiero questa cosa o è qualcosa che a livello uditivo io percepisco è un pensiero è quella cosa ti sta chiamando e dentro la tua borsa da ormai quasi due giorni usano potete vedere che sto ancora come elaborando tanti pensieri contemporaneamente come mosso da pulsioni diverse continuo a fare avanti e indietro il mio sguardo continua a passare dalla dalla mezza medusa a terra della mezza corgono a terra alla scrivania ad elun e vedete un poco che sto fremendo in un certo senso come se non avessi tregua ma elun ti metti a scassinare la scrivania io ho un punto ispirazione a qualche parte non mi ricordo sì sì ce l'hai ce l'hai allora lo uso nel tirare io nel mentre vedo che più o meno sono tutti impegnati guardo guardo alistair e vedo che comunque continua a a fremere e mi giro verso di lui e gli dico io vado a buttare un occhio anche nelle altre stanze se ti scoccia rimanere fermo potresti fare lo stesso e mi ha più verso ho visto che c'è sembrava ci fosse una biblioteca nell'altra stanza esatto eh io vado a spulciare un po' lì dentro elun inizia a armeggiare con la cassaforte e la apri le rune non scattano non schioccano e quando si apre niente è un oggetto visibile è un oggetto visibile assolutamente niente va bene Fabi guardo se c'è un doppio fondo qualcosa di questo tipo nulla va bene va bene ok ciao chiudo tutto e me ne vado mi guardo attorno sul resto della stanza che cosa mi potrebbe suggerire di di nascondere il soggetto qua dal dal nulla spunta Flynn quindi è lì dentro dobbiamo andarcene sì quindi dov'è tra le lenzuola del letto di brasca può essere ha detto jace tiro su la gorgone me la tengo in braccio e esco fuori dalla stanza e non ho capito in quale stanza è andata se quella in basso o quella in alto quella in alto quelle in alto e alistar invece dov'è alistar e credo sia con nimu è è andato con nimu ha messo sulla porta ho seguito nimu e ok ok la camera da letto invece qui in basso si lo riconoscevo dal letto a barbacchino ok io arrivo appunto qui sulla porta mi viene l'istituiti di che con un calcio di tirarla giù ma mi fermo e aspetto con lo sguardo elon ok raga chi è che sta disegnando i cerchietti è colpa mia ho sbagliato volevo solo impostarla per vedere meglio eh tira fai un tiro in percezione malena si lei non è in camera in questo momento no non sono ancora entrato 19 ok non sembra esserci nulla sulla serratura e cosa del genere no nulla nulla di nulla beh ma io non sono un uno scassinatore quindi preferisco comunque aspettare che arrivi elon se no sapete cosa succede vero io come si avvicina elon dice mi sembra di aver notato niente però non sono io l'esperta di serrature sempre un pochino tagliente perché sto che lavoro fai eh sì sposti ci do un occhio fammi un tiro con vantaggio poi il ladro a Zorius è lì e di percezione? si non sembra esserci nulla la porta è chiusa? no apro la porta la stanza di Verasca è forse il luogo più intimo che voi possiate immaginare un ambiente pulito e rassettato con una piccola scrivania e un letto a baldacchino perfettamente ordinato vedo non c'è nulla fuori posto vedo un vestito una coperta qualcosa si ci sono i vestiti di Verasca riposti in un armadio senza ante perfettamente ordinati cerco allora qualcosa di abbastanza coprente e pesante per coprire la gorgone trovi un grande mantello che ti permette di di avvolgerla completamente mentre lei sta tremando vedi che è in uno stato di pseudo incoscienza non è completamente lucida io la copro le passo le mani sulle braccia sussurrandole ti portiamo fuori di qui non ti preoccupare e la tengo la tengo con me e tiro un urlo un urlo no non tiro un urlo da Alistar però semplicemente se c'è Gregorio gli dico chiama Alistar dobbiamo vedere tra quella lenzuola e solo lui può prendere la scheggia io entro e provo a vedere anche qui quelli che sono quelli che potrebbero essere dei ripostigli per per la pietra tendenzialmente di fianco al letto quindi quella roba lì giù in basso a sinistra non so cosa sia è un baule ma non sembra esserci niente dentro il resto della stanza c'è qualcosa che possa essere più atto a no no Alistar senti la voce di Malena dirti Alistar vieni qui ho mandato Gregorio sì ho mandato Gregorio perché non volevo urlare perché va bene che abbiamo appena fatto un fight però non volevo attirare troppo l'attenzione per quello che sta bene torna un cazzo stordine a sta cosa cioè vrasca me l'aspettavo nel dormere i chiodi magari è Jace che l'ha costretta a comprare una stanza dove poter fare no mi sa di stanza cioè lo dico comunque lo dico fuci alta specialmente a Malena è un po' quella più sulla mia lunghezza sonda in quanto strategie e cose a me non torna sembra una stanza finta proprio di contestuali parole anche lo fosse non ci costerà più di dieci secondi dare un'occhiata a quelle lenzuola sotto il tappeto io mi avvicino molto guardingo cioè io proprio la sensazione che sia un'illusione che mi scompare dai piedi e cado cioè una cosa del genere cammino proprio piano qui quasi con le punte in avanti col peso all'indietro sai muovi il tappeto Gregorio Gregorio io ma è l'unico e sotto il tappeto c'è una botola una sgrotola e faccio una perception sulla botola tirami in percezione vorrebbe più insight però va bene anche perception preferisco insight di gran lunga vabbè no in verità qua perception lì c'è una trappola magica ma a pressione o se si apre la botola se si apre la botola e se si rompe la botola e se la botola la rompe tira elun allora è una roba disarmabile con il mio tirino di slurto fan ok si buono elun inizia ad armeggiare il chiavistello è anch'esso complesso ma proprio nel momento in cui credi di avercela fatta il momento in cui credi di aver messo il chiavistello alla perfezione tac come nino non ho capito bene allarme l'allarme è l'allarme antifurto nel castello di swaps un urlo si smuove per tutto il castello obbs Alexa stop Alexa stop dovunque nelle vostre menti correte correte e io allora urlo Alistar l'allarme a parte la botola si apre assolutamente no caffatracci ficcuna sciata ok ovviamente appena sentiamo il boato e le urla io arrivo a corsa proprio al galoppo con il collo ti indico con un cenno della testa ti indico il letto e sai cosa devi cercare non c'è tempo per le buone maniere via la linsuola si ribalta tutto al volo non c'è nulla nel letto io ho tempo mi prenderebbe fare un altro tentativo di scassinare poco oramela trappola è scattata e allora via io ci sto ho ficcato una sciata dritta ah c'è ficcato una sciata dritta sulla botola si ah ok la botola va in front e che cazzo ah che cazzo c'è magari una botola non l'avevo scassinare con le puntine non l'avevo sentito ormai è scattato tutto boh scusa spacchi la botola e trovi un forziere che sarà così più o meno lo prendo con una mano praticamente ok e poi al fianco al forziere l'artefatto di netto c'è proprio lì così appoggiato appoggiato ah io prendo il forziere Alistair prendilo tipo ora via Alistair scelgo te intuffo proprio mi allungo all'interno della botola per raccogliere l'artefatto che succede qualcosa? e appena lo prendi fammi un tiro salvezza saggezza no porca troia io lo so già che ognuno di noi è immune a uno e poi diventiamo tipo i power ranger si voglia che dobbiamo prendere altri quattro altri tre cos'era salvezza? saggezza tipo sono le nostre armature di pegasus esatto potresti guidarti come si chiamavano quelli i zavagli di power ranger? i morfers non lo so non lo so stai parlando con il più grande esperto di power ranger quando 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 lo tiene in mano Alistair vedi che ti comunica qualcosa e ti dice non perdi i sensi ma ti dice rendici uno non ho capito che dice rendici uno rendici uno rendici uno tu l'altro pezzo ce l'hai nella borsa non hai neanche toccato rendici uno vedete proprio mentre lui ha il pezzo in mano ed è cosciente me ne accorgete sentite finire dire signori c'è una gorgone che sta salendo le scale credo proprio sia Vrasca dobbiamo andare c'è una finestra lì no? no no c'è c'è la vedo è lì non ci sono ma non vuol dire valedetto ha fatto il master se sta scherzo l'hai fatta tu la mamma ne ha messe vaffanculo non c'è la finestra è fugone è fugone però verso l'alto a sto punto non lo so ma giusto dove cazzo è? eh appunto io mentalmente dico Jace dove cazzo sei? sicuramente mi sentirà correte correte terzo dove? tipico gergo si è grull grull è tipo il grossetano ci vediamo sul tetto ci vediamo sul tetto sapevo io non controllo se Alistair se l'è messe in tasca cosa sta succedendo io forzierino alla mano chiappa a corsa verso la porta e verso in alto io aspetto Alistair no mi fido vorrei ancora sono un po' stannato dalla questione rendimi uno rendimi uno potete vedere proprio un attimo di esitazione prima di iniziare a seguirvi però ho raccolto anche l'altro pezzo con con la mano quindi potete vedere Alistair che regge i due pezzi in mano mentre in maniera un po' confusa inizia a seguirvi ok iniziate a scappare e fatemi tutti un tiro di atletica ma non vedevo l'ora stella proprio atletica proprio atletica 36 atletica non va su destrezza 40 forza atletica sempre stato no appunto 9 sette 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 atletica dovrebbe essere tipo un tiro vali un tipo un tiro iniziata a correre misto iniziata a correre iniziata a correre lungo i corridoi e sentite le urla le urla della gorgone mentre vedete anime iniziare a correre via anch'esse terrorizzate dall'urlo di Vrasca i fantasmi hanno paura della gorgone allora ma purtroppo il peso Gregorio il Alistair tu corri ma gli altri restano indietro iniziate a correre correte correte ancora di più salite delle scale aprite aprite delle porte e vi ritrovate in una zona all'esterno della fortezza di Smotgos all'ombra di un albero potrefatto dietro di voi la vedete arrivare sporca di sangue le 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 bellissima nella sua furia guerriera con i serpenti che si muovono e le sue dita ricoperte dalla sua armatura che sono pronte a salmodiare qualcosa mentre un drappo blu con delle incisioni bianche è incastrato nelle sue scaglie vabbè non è morto jace mai non è morto eh vabbè però ci si è menato non è morto anche perché ha fatto il sesso forte ai piedi grandi vedi vedi che lei lei ti guarda rendetemelo e forse diventerete stato nel mio giardino e non morirete io mi giro verso Gregorio con forza gli lascio la gorgone faccio un passo avanti sfoderando il falcione mi giro verso Alistar unisci i pezzi portali lontanina qui e mi avvio lentamente verso Vraska il sacrificio master io eh casto invisibilità su Alistar spendendo un punto di metamagia per farlo senza componenti somatiche e verbali in modo tale che Vraska non se ne accorga un passo due passi Malena un altro passo e poi semplicemente la gorgone ti tira un pugno nella pancia e ti ritrovi per terra no perché ho reazione entra nella mia area di minaccia e quindi la posso attaccare vaffanculo è un grado sfida 22 lo faccio ho comunque diritto la rimbalzo e tim mentre prova a colpirla ma allora è solo un 22 Vraska caro il mio foundry io e te non abbiamo un buon rapporto ma se c'è un momento in cui mi devi dare un 20 naturale è questo ti prego ti prego uso anche ispirazione ok nooo per uno non è vero e non è critico per uno non è critico ma lena ti tira un colpo di artigli e sei a terra non ti ha mandato a zero e stanca del combattimento ma lei non la prendo con 24 porca troia la prendi la prendi e lei allora aspetta tiro il danno hai finito un dio e ed è anche smite non mi interessa vedi che lei incassa il tuo colpo non importa quanti danni gli fai non importa è solo che è solo il gesto è proprio il tuono che esplode lei questo tono rimbalza contro il suo braccio lei ti acchiappa per la gola e e e cose varie Alistair ok io ovviamente sto vedo la scena e comunque istintivamente vado verso Malena e ci ho messa a sciarpa la semigorgone ok cosa fai cosa fai Gregorio sei subito dopo Malena aspetta Alistair non ti preoccupare a te ci arriviamo vedo la scena cerco prima che cada in terra prima che cada in terra dopo aver ricevito il colpo di Vrasca cerco con una mano di prendere tipo per l'armatura o roba del genere Malena invece di farla cadere a terra alla merce di Vrasca cerco di prenderla verso di me e trascinarla all'indietro ce la fai la trascini un po' all'indietro ma sei davanti Vrasca cosa fai? stai andando all'indietro ok per distrarla o roba del genere gli tira un'accetta di quelle da lancio tira per evitare che mi attacchi male lei la schiva e ti si avventa addosso Gregorio e ti dice a wave dash lasciatemi andare Gregorio fammi un tiro salvezza costituzione ma che ti caca te lo giuro cioè lo dico norco dio vedete Gregorio iniziare a diventare pietra e ce l'hai e due Elun vedi che c'è Gregorio bloccato con la gorgone e Malena ci siete tu Nimo e poi Alistair Elun cosa fai? io ho come abilità da Arcane Trickster posso fare una mano magica che non si vede che faccio sì per cui l'idea è provare con una mano magica alle sue spalle a fare del rumore per cercare di distrarla ti fai tap tap sulla spalla esatto con le palle lo fai la fai la fai i suoi occhi si illuminano di giallo capisci che è che è stato un incantesimo e in men che non si dico ce l'hai addosso lei ti acchiappa per dietro dalla testa e ti schianta per terra Elun completamente vedi che si avvicina a te dove non mi fare stancare tu sei come me Nimo è ah ok Franco non è Elun eh no infatti ho detto ma veramente lui è blu ma io la la guardo la guardo negli occhi abbasso abbasso il cappuccio lascio che veda le serpi ma sa già benissimo che sono lì e quello che faccio è castare il trucchetto in cold thoughts nella cui stringa vorrei inserire diciamo non tutte le informazioni che abbiamo ma vorrei inserire le motivazioni per cui Jace non vuole che lei abbia il pezzo cioè quanto potrebbe essere dannoso il pezzo quando la stringa entra dentro frasca vedi che le lacrime iniziano a rigarle il viso e poi lei dice io lo devo fare per la mia cilda Alistar fammi un tiro salvezza saggezza ora basta attacca quei cazzo di lego olè il ventone naturello così cazzo plot armor gigante mentre frasca stira uno schiaffo in faccia a nimo e la manda per terra ma rendici uno rendici uno rendici uno rendici uno tu prendi due pezzi e li inizi ad avvicinare Alistar li avvicini li avvicini sempre di più li vedi entrare in una sorta di irrisonanza senti che il l'azoteppe inizia di nuovo a mutare e quando e quando si uniscono non è non fanno qualcosa al di fuori succede qualcosa dentro di te è come quando un martello colpisce un pezzo di ferro arroventato la sensazione è quella cosa succede quando un martello colpisce un pezzo di ferro arroventato Alistar cosa si accende stai vorrei dire una scintilla esattamente cazzo hai pullato l'urza hai fatto la urzata vedete Alistar emanare un'aura incredibilmente accesa un'aura blu Gregorio tu sai quello che sta per succedere mentre la gorgone sta per ghiermirti Alistar tu l'unica cosa che pensi è portami via da qua portami io ho capito via da qua stiamo per planare a caso sappiate portaci via d'acqua ed è tutto buio per tutti voi improvvisamente kamigawa ci sta è un e no e poi sbattete contro un suolo polveroso e per stasera finisce così allora boom o siamo a shiv o siamo a xalan potremmo essere ovunque solo l'irrodin eh potremmo essere anche a bibona ragazzi poi siamo due parallele più in fondo perché la scintilla non è ancora ben rodata no la vera domanda è che cazzo cambia ora fede eh già ci avrà delle abilità particolari eh già merda ragazzi cazzo allora me l'aspettavo ovvio ma non così presto vabbè direi che tutti facciamo un level up Alistar refa tipo 6 Alistar improvvisamente è il 22 e invece e invece non livellata nessuno esatto abbiamo livellato uno scontro ma io colpito Vraska in faccia con invece non livellata nessuno perché stasera avete giocato benissimo ma non è abbastanza per livellare e siccome come mi dice il mio il buon lore controllare la scintilla non è un cazzo facile adesso vabbè ovviamente lì sei svegliata ora il cazzo che ora non è che c'ha la ultimate cioè nel senso c'ha da studiarci sicuramente esattamente fede come ti senti? sei un friendswalker figlio po figlio po cazzo che figato è il rumore che era da monchetta adesso praticamente è l'azotep quindi potrebbe essere che il ferro ha istintivamente senza un comando preciso abbia riportato tutto a casa ora non dirci nientemente niente stiamo congetturando stiamo facendo la gioca io ho la strappi della tua giocata è finito il primo capitolo di l'ombella scintilla bene di ora tra l'altro e per ora minchia bello mi ha dato una sbrega avrasca sono contento pure salvato da un innocente i paladini di così ora abbiamo al seguito Flynn che è inutile il Rekdos è con noi? sì ovvio ovvio lui si ricorda di esistere solo quando lui secondo me ogni volta che succedono cose gravi si nasconde e riappare quindi noi abbiamo quindi abbiamo all'interno del party abbiamo un Orzov una Boros un Golgari un Grul mezzo Izzet una Simic in realtà Dimir e manca la Selesnia beh una Zorius abbiamo il Rakdos abbiamo la Golgari involontaria che senso? la mezza gorgone che abbiamo appena salvato ah ok è Golgari involontaria è Golgari involontaria ma anche appunto è Selesnia perché Selesnia non se ne cura nessuno sono ancora lì che fanno i balletti attorno al fuoco ma volete sapere invece qualche insight sui Selesnia abbastanza se non avete letto le storie domani parleremo della Lorda di Marders che ha molto a che fare anche con determinate cose di tutte le cilde Gregorio prima di diventare prima di diventare un Gruul era un Izet quindi e quindi si manca solo la Selesia ragazzi vi siete divertiti? minchia belle botte bella l'esplorazione, bella la fuga molto molto fina questo è stato un puntato, credo la migliore puntata breve a me piace come do il bastone e la carota Federico prima l'ho tratto bene prima l'ho tratto malissimo prendi un Alistair e trattalo male fuori dal letto stiamo usando Foundry visto che è presto non ti incazzare con me ricordiamo questa è la fine del primo capitolo il primo atto della campagna ora inizia un periodo un po' particolare perché abbiamo svariati impegni cazzi e robe quindi vi dico già delle date da tenervi bene a mente da assegnarvi ovviamente se io dico una data vuol dire la live chi guarda la cosa su YouTube automaticamente è il giorno dopo di quello che sto dicendo quindi non faremo la giocata domenica 17 no perché sono a New York Gian è a New York a fare i miei incantavaniferi o mezzanotte e quindi il 17 salteremo la giocata perché è inutile spostarla considerando che poi toccherebbe spostare anche tutte quelle dopo quindi il 17 salta dopo stasera la prossima puntata sarà il 24 sera domenica dopo il 24 sera che sarà la prima puntata diciamo pilot del secondo atto della campagna prenderemo effettivamente una vera e propria pausa una vera e propria pausa che ricomincerà speriamo il più dritto possibile semplicemente da domenica 14 aprile confermati tutti? sì ottimo praticamente per il prossimo mese giochiamo due volte esatto praticamente prossima volta il 24 e dopo quella la volta dopo il 14 ricordatevi bene queste date ovviamente per chi la guarda su youtube lunedì 25 e lunedì 15 sì raga pre-release perché c'è già un nuovo pre-release c'è Outlaws aspetta ah cacchio è vero aspetta 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 Outlaws esce il 16 su Arena quindi il 13 e 14 c'è il qualifier probabilmente il 14 pomeriggio dovrebbe essere la giornata del pre-release ah forse ci riesco anche a essere perché io il sabato sono a Torino Comi addirittura dobbiamo vedere come ci incastiamo col qualifier perché potrebbe essere il pre-release l'organizzo di venerdì sera potrebbe devo vedere devo vedere di solito dovrei fare è molto probabile che si faccia la doppietta perché di solito il qualifier non faccio dei due nel senso perché se il pre-release è il 14 si fa il 14 pomeriggio pre-release 14 sera ombra comunque se c'è da spostare qualcosa non sposto l'ombra ma sposto il pre Delmo io ti dico io sabato sarò a Torino Comics per impegni vari quindi se vuoi per il pre-release o per dire domenica verrei volentieri magari parli sabato 13 sabato 13 sarò a Torino Comics e allora Gianna a Torino Comics ci vediamo oh let's go io sarò impegnato perché devo presentare un premio per il doppiaggio videoludico e avrò degli impegni con Intel ma ci si incrocia sicuramente non ti preoccupare e già possiamo dire esatto già possiamo dire ora dobbiamo dobbiamo capire se da qui a maggio riesco a contattare qualcuno per renderlo ufficiale magari farmi prenotare un'area meet and greet insomma qualcosa del genere ma vorrei riuscire a vedere più gente possibile al Modena Play al Play Modena scusate perché al Play Modena capita che siamo tutti e il Play Modena è il rinfrescamelo 16, 17, 18 16, 17 no 17, 18, 19 sì quindi molto probabilmente per me ovviamente sarebbe il 18 per tutti il 18 io dovrei essere lì bene o male tutti i giorni siamo siamo lì tutti io siamo lì tutti i giorni devo sentire anche Nicola ci sarà sicuramente anche lui il Degobon sì Gian sì 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 mi sento anche Nicola magari vediamo se riusciamo effettivamente a rendere questa cosa un cazzo di angolo con un'ora e una scritta meet and greet ombre della scintilla nuova del genere perché vorrei fare un panel di un'ora più che parlare con la gente più che parlare a un microfono vorrei effettivamente fare un meet cioè un raduno di persone del canale che vogliono che per l'occasione siamo anche proprio tutti noi insieme dell'ombro della scintilla sarebbe molto molto bellino e appunto invece di dire semplicemente come a Lucca si fa ci si trova alla fontana invece di dire ci si trova alla fontana sarebbe bellino fare una persona c'è di bello che almeno il modo da play è più fattibile cioè Lucca è complesso qui almeno esatto magari alla peggio ci danno uno spazietto o un tavolo e due penne cioè voglio dire non è che c'è da fare chissà che ma fa no lo dico tu insomma in generale io al play modena tutti noi comunque anche soltanto la giornata in giro ci saremo perché vogliamo vederci e se non riusciamo a renderlo ufficiale con la fiera lo rendiamo ufficiale per i cazzi nostri chiunque è al play modena diremo un'ora e un posto e ci si trova sei al fantino ciao quindi si fa per il resto credo basta appuntamenti specifici credo basta sì ottimo signori ricordo allora che la prossima puntata è tra due domeniche io ringrazio ovviamente come sempre Andrea Muia guidetelo su Instagram su Twitch quando stream ogni tanto anche se ora è in pausa e sul canale Orion che nel caso si sa mai ritorna chi lo sa può succedere il canale è lì ogni tanto ci metti le palle ai piedi ovviamente Nino Fabio e Fede che sono i time to dice tutti i mercoledì tutti i mercoledì sera si trovate live che fanno le loro ruolate con i dittonghi nel nome della giocata e e Mario giusto che sei anche con loro no no sono mai stato io ero con loro su a giocare a Warhammer ah è vero non era non era Edor e Mario del Pellino ovviamente se vi piace vedere delle mani che effettivamente sanno fare qualcosa e non come noi che siamo rubatori di stipendi al momento sono fermo su Twitch troppo lavoro da fare in generale seguite Mario sui social e così ricordiamo che se volete anche non so si può fare anche uno spammino ultimamente uno dei grossi progetti di Mario è stato illustrare il libro di Sara appunto il cosa si 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 no ultimamente in verità è già successo la notizia è fresca nel senso è uscito a breve quindi vediamo il libro game di Curo Lili le illustrazioni sono di Marione del Pendinone quindi anche lì è un bel progetto da recuperare signori ci vediamo alla prossima buon nuit e buon qualsiasi orario sia a voi che lo state guardando su YouTube ciao 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 c'è la live dove parli dell'ombra dell'ombra dell'ombra